Fermato dai vigili urbani mentre spacciava due grammi di marijuana a un cliente italiano all'angolo tra via Bixio e via Cairoli. Gli agenti del reparto di polizia giudiziaria della polizia locale hanno arrestato ieri pomeriggio un 32enne centroafricano. Gli agenti hanno assistito al passaggio dose e banconote tra i due e sono intervenuti subito. Il pusher aveva con sé in tutto 5 grammi di marijuana. È stato arrestato e processato per direttissima. Sempre nel tardo pomeriggio di ieri, in tre ore, i carabinieri hanno passato al setaccio la stazione e i dintorni scovando pusher e sbandati. 107 le persone controllate, 72 di queste extra comunitarie, 6 sono state accompagnate al comando provinciale per accertamenti. 50 grammi di marijuana erano nascosti in alcune aiuole del piazzale, a conferma di quale tipo di commercio si tenga in quella zona. Segnalato al prefetto, un tunisino 19enne che aveva con sé 4 grammi di droga. 26 uomini impegnati nelle operazioni, compreso il nucleo cinofili e 12 automezzi.